un dossier dettagliato e impietoso con dati che sono un pugno nello stomaco è quello assemblato dal ricercatore Rocco De Prisco il titolo è interferenti endocrini e salute umana nel bacino del sarno gli interferenti endocrini sono sostanze di varia natura come metalli pesanti di ossine ritardanti di fiamma che interferiscono appunto con le capacità delle cellule di comunicare fra loro attraverso gli ormoni secondo una definizione dell'istituto superiore di sanità in particolare l'interferente endocrino è una sostanza isogena oppure una miscela che altera la funzionalità del sistema endocrino causando effetti avversi sulla salute umana oppure della sua progenie con ricadute transgenerazionali studi sui terreni sulle acque esoterranee superficiali sui capelli della gente sulle lattughe percentuali messe a confronto con l'incidenza di malformazioni neoplasie e disturbi di vario genere di diversa gravità analisi realizzate da esperti ed enti di portata nazionale ed internazionale perché il ricercatore del cnr Rocco De Prisco instancabilmente ripete che abbiamo tutto quello che ci serve per essere consapevoli di vivere in un luogo che può definirsi al limite tra l'inferno e il purgatorio eppure spesso ci viene detto che qualsiasi allarme va contenuto perché non esiste ancora alcun legame certo tra ambienti inquinato e tumori ed in attesa di conferme di ulteriori ricerche in questo territorio piccoli e grandi giovani e anziani senza distinzione di età vengono colpiti sotto varie forme da patologie tumorali malattie rare mentre tutto tace e se qualcuno si alzarda a parlare viene classificato come terrorista il fiume sarno continua a trasportare carichi tossici nel golfo di napoli l'appello provocazione di De Prisco è di invitare i vari consigli comunali dell'agro a partecipare alle riunioni di genitori con figli autistici malformazioni fetali deficit di attenzione bambini ricoverati in strutture fuori regione con patologie tumorali o per malattie rare o associazioni di persone colpite da tumori